Per andare alla piramide della luce Viviana avrebbe dovuto continuare su questa strada per ancora 15 chilometri e prendere l'uscita di Santo Stefano Camastra perché il paesino dove si trova la piramide della luce è motta da fermo. E questo è il luogo dove voleva arrivare Viviana Parisi, la piramide della luce. La sua vita si è fermata 30 chilometri prima. Grazie a tutti.